In un momento storico che stiamo vivendo, particolarmente complicato, giungano dall'amministrazione comunale, da me, gli auguri di un sereno Natale, soprattutto da vivere con i propri cari, con i propri familiari, in maniera assolutamente riservata e rispettosa anche delle nostre tradizioni e quindi augurandovi un sereno Natale, estendetelo con affetto a tutti i vostri familiari.